La struttura di colorina che ospita i profughi deve essere chiusa. Questo succede a chi non rispetta le regole. Il senatore Johnny Crosio ribadisce la sua posizione sul caso del centro di accoglienza dove i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno riscontrato la presenza di lavoratori in nero. Non accettiamo che chi gestisce una struttura autorizzata dalla prefettura venga solo sanzionato per queste violazioni. Invece deve chiudere come succede ad altri imprenditori, afferma il parlamentare leghista. Non ce la si può cavare con una semplice multa. Questo può essere un pericoloso precedente, insiste Crosio, che lamenta poca chiarezza nella vicenda e chiede risposte alle istituzioni. Chi e perché ha deciso di applicare solo una sanzione amministrativa e non disporre la sospensione dell'attività? Crosio non crede alle motivazioni di ordine pubblico causate dall'impossibilità di trovare nell'immediato sistemazione ai 70 migranti ospitati a Colorina all'origine della decisione di non chiudere il centro, come risulta peraltro consentito da una circolare ministeriale. Chiusa la struttura dice i profughi si possono e si devono trasferire. A Colorina e in tutta la provincia conclude ce ne sono già troppi. La prefettura di Sondrio dal canto suo precisa che la questione sollevata non è di propria competenza e che essa è stata trattata in completa ed esclusiva autonomia dall'ispettorato del lavoro di Sondrio che dunque avrebbe deciso in autonomia appunto quali misure adottare nei confronti del gestore. La questione insomma, prosegue la nota dell'ufficio territoriale del governo, non attiene ai compiti della convenzione tra la prefettura stessa ed il gestore della società che allo stato attuale è pienamente rispettata. Le infrazioni rilevate, conclude il prefetto Scalia, scaturiscono dall'ordinaria attività dell'ispettorato del lavoro relativamente alla regolarità dei rapporti di lavoro. Il gestore della società che oggi abbiamo cercato di contattare senza esito avrebbe già impugnato i provvedimenti emessi nei suoi confronti.